Terra tutta, da lode a Dio, canta il tuo Signor. Servite Dio nell'allegrezza, cantate tutti, grande Signor. Terra tutta, da lode a Dio, canta il tuo Signor. Sì, il Signore è il nostro Dio, Lui ci ha creati, noi siamo soli. Terra tutta, da lode a Dio, canta il tuo Signor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, stiamo vivendo giorni belli, guidati dalla presenza dolce della Madre di Dio. Domani è la festa della supplica. Il 5 ricorderemo la memoria del fondatore di questo santuario. E l'incontro con il Signore, attraverso la testimonianza dei Santi, ci viene incontro perché la nostra vita sia trasformata dalla grazia. E prima di accostarci ai Santi Misteri, ascoltare con impegno e in docilità la parola di Dio, riconosciamo davanti a Lui i nostri peccati. Confesso a Dio Nipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, semprevergine Maria, gli Anceli, i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Nipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore e pietà, Cristo pietà, Signore e pietà, Signore e pietà, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace intera agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu sei il Salve, tu sei il Signore, tu sei il Signore, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua Chiesa. Non abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato. Continua a coltivarla e arricchirla di scelti germogli, perché in estate in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti di vita eterna. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, do figlio che è Dio, vi verregni a contene l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna, sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi, e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre, e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata. E vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. La vigna del Signore è la casa di Israele. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai radicato una vite dall'Egitto. Hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai esteso i suoi tralci fino al mare. Arrivavano al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore è la casa di Israele. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. La vigna del Signore è la casa di Israele. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltate e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a Dio. Ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo, avranno rispetto per il mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro, costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero, quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro, «Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato e diventata pietra ad angolo? Questa è stata fatta dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Fratelli e sorelle, Siamo nel mese del Rosario e ci ritroviamo insieme per condividere un cammino fatto di preghiera intensa alla Santa Vergine affinché ci conduca nel cuore di Cristo. È un'esperienza forte che vivremo con il Buongiorno a Maria, la rescita della supplica, il Rosario quotidiano. È lo sguardo dolce della Santa Madre di Dio e la intercessione del Beato Bartolo Lonco di cui ricorre tra qualche giorno la memoria liturgica ci sosterranno nel cammino. Il nostro Beato, quale contadino premuroso, ha lavorato in questa terra abbandonata, piantando la vigna dell'amore compassionevole di Dio ed aprendo il cuore di tanti alla solidarietà. Proprio l'immagine della vigna, la più suggestiva della Bibbia, è presentata dalle letture di questa Domenica. Nella prima, tratta dal profeta Isaia, è descritta la passione di un agricoltore per la sua vigna come quella dell'innamorato verso la sua amata. Il profeta se ne fa portavoce ed amico narra la storia di lui. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna e l'impegno che egli mette perché produca frutto. L'aveva dissodata e sgombrata dai sassi gli aveva piantato viti pregiate, in mezzo gli aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Tanta passione e premura, il profeta Isaia li indica con i verbi dissodare, sgomberare, piantare, costruire, scavare. Sono i verbi dell'amore operoso che esprimono tutto il trasporto di Dio per Israele, la vigna che la sua destra ha piantato e specialmente per gli abitanti di Giuda, sua piantagione preferita. Per chi ascoltino, invito rivolto anche a noi ciascuno, nuova vigna nutrita dalla vita che è Gesù, il figlio amato. Il testo dice che il padrone aspettò che producesse uva perché la fecondità si nutre di attesa e Dio con l'uomo si comporta così. Sa attendere perché è paziente e buono nell'amore, non abbandona ciò che ha creato, anche se l'attesa comporta qualche delusione. Infatti, nonostante le cure, la vigna produsse acini acerbi. Esprime perciò tutto il suo lamento, la sua delusione, che cosa dovevo fare ancora la mia vigna che io non abbia fatto. Un simile appello non dovrebbe forse toccarci in profondità. Cari amici, Dio è l'agricoltore che aspetta frutto, ci passa accanto ogni giorno perché corrispondiamo come vigna feconda alle sue cure amorevoli. Vuole essere amato da noi nel volto di chi bussa alla nostra porta. Invece, le nostre risposte vanno in altra direzione perché offriamo non acini gonfi di amore succoso, ma acini acerbi, frutto del nostro egoismo. Per questo il profeta dice «Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi». Carissimi, la parola del profeta sembra fotografare questo nostro tempo in cui l'egoismo di parte attanaglia il cuore di tanti, anche di uomini di chiesa, impedendo di coltivare uno sguardo solitale verso i bisogni di tanta umanità sofferente. Perciò ci rivolgiamo al Signore con le parole di Salmo. Facci rivivere, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Nonostante le nostre infedeltà, il Signore ci viene sempre incontro e ci soccorre amandoci. È la vicenda narrata dal Vangelo. Affidando a dei contadini la vigna che Egli ha curato, Dio manifesta il suo desiderio di partecipare al suo amore. La vigna è l'immagine del mondo creato nel quale Dio ha collocato l'uomo perché possa goderne lavorando la terra e traendo con gioia abbondanza di raccolto. Sì, Dio ama condividere i Suoi beni, dà sempre fiducia e tessitore di opportunità nuove, offerte anche a chi è tentato al momento del raccolto di imbatronirsi dei Suoi frutti. Non consegnando il frutto del raccolto, i contadini fanno prevalere il loro peccato che è il desiderio di possesso. Sbarazzarsi di Dio per possedere la tentazione del Giardino dell'Eden che accompagna il cammino dell'umanità, male sottile e terribile, che rovina tante relazioni e che fa tenere strette risorse che, se condivise, potrebbero servire a molti. E la brama di possesso si declina anche con il rifiuto ostinato di restituire ciò che si è ricevuto e di ascoltare chi timidamente bussa alla nostra porta. Così fanno i contadini della parabola. Addirittura usano violenza per non accogliere gli invitati del padrone. Dice il testo che di fronte a tanta ostinazione mantò il proprio figlio, ma anche il figlio viene coinvolto in questa sorte. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Decisione che mette a nudo il reale desiderio dei contadini, ereditare il bene che era stato loro affidato. E per far questo lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Proprio come è accaduto con Gesù, l'inviato del Padre, che fu condotto fuori dalla mura di Gerusalemme e crucifisso per l'egoismo degli uomini. La risposta che Gesù dai capi dei sacerdoti e agli anziani sconvolge le loro categorie ad una proposta di violenza egli narra di un Dio che si fa pietra di scarto quale è fondamento di una nuova umanità. A voi sarà dato il regno di Dio e sarà dato ad un popolo che produca frutto. Pietra di scarto che diventa la pietra d'angolo per un nuovo edificio, una chiesa minore che non si basa sul potere, sul possesso, ma che invece è abitata da uomini e donne che non possedendo si lasciano coinvolgere nell'amore folli di Dio che tutto dona. ecco il frutto che egli attende da ciascuno. L'ottenga per noi, Santa Maria, vigna feconda che il Signore abbia andato per noi e così sia. professiamo la nostra fede Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discesse dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incannato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è suscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato ed ha parlato per il mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati ed aspetto la rigenzione dei morti la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, San Paolo ci dice che quando siamo nella necessità dobbiamo esporre a Dio le nostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Preghiamo dunque il Signore perché ci ascolti e ci conceda ciò di cui abbiamo bisogno. Preghiamo insieme e diciamo ascoltaci o Signore perché la Chiesa rimanga sempre unita a Cristo mostrando al mondo il volto splendente dell'amore misericordioso e provvidente di Dio. Preghiamo. per i governanti perché abbiano piena consapevolezza che il loro compito è agire come amministratori in funzione del bene comune. Preghiamo. Preghiamo. Ascoltaci o Signore perché gli uomini non cadano nella tentazione di mettere se stessi al di sopra di tutto ma riconoscano nella volontà di Dio la via verso la piena realizzazione della loro umanità. Preghiamo. perché i cristiani si impegnano ad annunciare a tutti il Vangelo della salvezza riconoscendosi inviati di un Padre che confida in loro. Preghiamo. Ascoltaci o Signore per coloro che si sentono soli nell'affrontare i loro problemi perché trovino nella preghiera un sostegno e un conforto sperimentando la vicinanza e la consolazione di Dio. Preghiamo. Ascoltaci o Signore. Gesù il Cristo il tuo diretto figlio è vita e feconda. Fa o Padre che rimaniamo in Lui perché possiamo portare molto frutto offrendo al mondo carità ed amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. è vita e feconda. Siamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onipotente. Il Signore riceva dalle Tue mani questo sacrificio, al nome e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la Tua opera di salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Ammè. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A Te, Signore, Padre Santo, Dio Onipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato il Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta, e con la Sua morte ci resti partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli, e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. A loro canto congedi, oh Signore, che si unisca le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei Cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Padre veramente Santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare indorno a Te un popolo che da un convino all'altro della terra offre al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ora, Ti preghiamo umilmente, manta del Tuo Spirito, a santificare i doni che Ti offriamo, perché diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, Egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e manciatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, presi il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, Celebrando i memoriali del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto ed asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio dono la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo spirito. E li faccia di noi un sacrificio perennate gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, il beato Bartolo Longa e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Tuo servo è nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, il Collegio Episcopale, tutto il clero, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ognuna gloria per tutti i secoli dei secoli. Obedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venca il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi i nostri pane e di chiama e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non cinturre in dentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. E con il suo Espirito. Signore Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Signore, con il suo regno di partecipare alla tua menza, ma di soltanto una parola, che togli i o sottostante. Signore, con il suo regno di Dio, che togli i peccati del mondo, che togli i peccati del mondo. Signore, con il suo regno di Dio, che togli i peccati del mondo, non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in soffraggio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Io sono la vita, voi siete i granci, restate in me, porterete frutto. e regno di Dio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.